In queste settimane la parola cura ha ottenuto un'inedita visibilità mediatica. A fianco di un necessario potenziamento delle strutture sanitarie, abbiamo assistito alla costruzione di pantagruelici ospedali in luoghi solitamente dedicati a grandi eventi e mostre. Questi gesti muscolari confliggono con i tagli alla sanità pubblica operati negli ultimi decenni dai diversi governi e si inseriscono in un processo di strumentalizzazione del lavoro riproduttivo che trova in questa emergenza il suo ultimo compimento. Dalle grandi opere al marketing la nozione di cura è stata sussunta e spettacolarizzata, piegata alle dinamiche della propaganda politica e alle parole chiave della comunicazione. Rivendichiamo la necessità di risemantizzare il concetto di cura, proponendo una concreta attenzione verso il lavoro riproduttivo sociale, sempre più invisibilizzato, privatizzato e sfruttato. È necessario lottare per la valorizzazione del lavoro di cura. Per farlo non si può prescindere dal ripensare la nozione di reddito. Il nostro impegno implica l'analisi e la messa in discussione del paradigma dominante secondo cui l'impiego, ovvero la capacità di produrre reddito e la sussistenza, cioè la facoltà di sopravvivere nella società, sono tra loro interdipendenti. Mai come in questo momento di crisi l'ingiustizia strutturale alla base di questo paradigma risulta evidente. Tuttavia, non è il virus ad aver incrinato il modello egemone di sfruttamento della terra e delle sue risorse. Questa fase altro non è che un momento in cui la crisi si palesa pornograficamente. Il tentativo di immaginare un nuovo paradigma coincide con il ripensamento del nostro stesso rapporto con il lavoro, attraverso la riconfigurazione degli assetti valoriali. La precarizzazione del lavoro è il risultato di programmi neoliberisti che impongono le logiche del mercato come unica dimensione di accesso alla socializzazione e, allo stesso modo, evidenzia l'inadeguatezza delle classiche soluzioni laboriste novecentesche che vedono il lavoro salariato come condizione necessaria per l'accesso alla cittadinanza. Ne conseguono la svalutazione e il mancato riconoscimento di alcune professionalità. Il mondo dell'arte e della cultura hanno subito e alimentato processi di privatizzazione e di deregolamentazione del settore, generando soggetti non riconosciuti e dunque vulnerabili. Le lavoratrici e i lavoratori dell'arte e della cultura rientrano in queste categorie, manovalanza cognitiva a basso costo, sottoposta ad un regime di perenne autosfruttamento. Che fare? Va compreso che il precariato non è esclusivamente una classe che si aggiunge a quelle storicamente esistenti. È un fenomeno che trasforma radicalmente la natura stessa del lavoro e tutte le sue forme di organizzazione e soggettivazione. Ripensare queste forme è parte dell'azione da perseguire. È necessario rifiutare individualismo e competitività forzata, riconoscere e analizzare i particolari rapporti di produzione e distribuzione del valore occorrenti, per tramutare questa consapevolezza in una diffusa coscienza collettiva, possibile innesco di una forza politica in grado di immaginare nuove forme di mutuo soccorso. Crediamo che non si possa e non si debba ricadere in certe forme di corporativismo storicamente intrinseche al mondo dell'arte contemporanea. Quello che ci attende oggi è uno slancio immaginativo e politico ben più radicale. Possiamo reimmaginare le istituzioni, le architetture e la programmazione dell'intero settore. Per farlo dobbiamo mettere in discussione le logiche che dominano le istituzioni museali, il funzionamento dei bandi, le residenze d'artista, le strutture del mercato e gli spazi no profit. Possiamo apprendere da tutte quelle realtà che da anni lavorano in questa direzione, unirci e coordinarci per costruire insieme luoghi dell'arte veramente abitati, centri di mutuo appoggio e di ridefinizione del possibile, costruendo progettualità condivise di sostegno reale alla libertà d'espressione e all'autoformazione. L'acquisizione di una coscienza in quanto lavoratrici e lavoratori è imprescindibile da una prospettiva autoformativa in cui generare, condividere, rendere accessibili i saperi e contemporaneamente attuare nuove forme di vita sia personali che collettive. Uno sforzo comune per una prospettiva etica condivisa, da manifestare quotidianamente nelle nostre decisioni individuali e nei nostri modi di vivere il lavoro. Ci chiediamo dunque, con quali modalità fare arte oggi? Insieme a quali soggetti? In che modo le lavoratrici e i lavoratori dell'arte possono allearsi alle altre figure del precariato contemporaneo? E soprattutto, come trasformare in prassi le prospettive etiche condivise alla base del nostro operare comune?